Benvenuti al nostro TGS. Per il calcio di Lega Pro con i tre posticipi di ieri sera si è chiusa la quinta d'andata nel girone B. In testa abbiamo Pescara e Virtus Entella con 11 punti, 10 la Ternana, 9 punti per Torres, Gubbio, Pesaro e Arezzo, 8 la Lucchese, 7 Ascoli, 6 Perugia, Carpi, Pontedera e Pineto, 5 Pianese e Rimini, 4 punti per Spal, Campobasso, Sestri e Levante, 2 il Milan Futuro. Zero punti chiude il Legnago. Tre gare in nove giorni. Il Campobasso prepara il confronto interno contro la Vis Pesaro in programma dopo domani sera allo Stadio Molinari con l'obiettivo di tornare al successo. Campobasso al lavoro per la sesta giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione in programma da questa sera con gli anticipi Arezzo, Gubbio e Sestri, Levante e Torres. Mercoledì altre due gare, precisamente Lucchese, Pianese e Ternana a Legnago. Infine sei match previsti giovedì, divisi equamente tra le 18.30 e le 20.45. In notturna i Lupi attendono la Vis Pesaro. Al Molinari la squadra di Braglia vuole tornare al successo che manca dalla seconda di campionato. L'ottima prova di Gubbio deve trovare riscontri al cospetto dei marchigiani guidati da Roberto Stellone. L'Avis Pesaro non conosce mezze misure, tre vittorie maturate contro Arezzo, Legnago e Pontedera e due sconfitte contro le Big, Ternana e Torres. Una squadra che ha sicuramente ben figurato in questo avvio di stagione, anche grazie al buon impatto del tecnico Stellone, arrivato al campionato in corso nella scorsa stagione e autore di una salvezza e play-out ai danni della Re Canatese. L'obiettivo della società bianco-rossa è quello di ottenere una salvezza tranquilla, un'annata sicuramente diversa rispetto a quella passata. In casa Campobasso, senza fare troppi conti o giri di parole, serve tornare al successo. Classifica a parte, i tre punti sono fondamentali in questo momento, vuoi per la crescita del gruppo e del collettivo, vuoi per alimentare l'entusiasmo positivo della piazza. Il problema principale di Braglia è il gol. La squadra ha segnato solo una volta in cinque partite, 2-0 a Legnago, poi il tabellino alla voce Golfatti è rimasto vuoto. Le indicazioni sono comunque positive. A Gubbio la squadra ha creato diverse occasioni da rete, ora c'è bisogno di concretizzare. Il quadro di Braglia sta trovando delle certezze, la squadra è compatta, la fase difensiva è buona, le distanze tra i reparti sono giuste, in particolare tra il centrocampo e la difesa. Crediamo che rispetto alla squadra vista in Umbria venerdì sera, il tecnico non cambierà molto. Possibile l'ingresso di Averi dal primo minuto in luogo di Bigonzoni, Baldassin torna disponibile dopo il turno di squalifica. Da capire se Braglia deciderà di far rientrare il centrocampista in luogo di Forte oppure confermare le tre punte. Questo è l'unico dubbio della vigilia, per il resto non dovrebbero esserci sostituzioni, previsto un ottimo afflusso della tifoseria che ha riservato applausi alla squadra sia dopo la sconfitta interna contro la Torres, sia dopo lo 0-0 di Gubbio. Ora è tempo di tornare a gioire tutti insieme in quella che è sicuramente una delle gare più importanti della stagione. I Rosso-Blu sono tornati da Gubbio con un punto conquistato al termine di un match giocato con grande determinazione ma che ha visto qualche imprecisione di troppo in zona goal. Ne abbiamo parlato con il difensore Benassai, tra i migliori in campo. Per quanto riguarda questo 0-0, che sensazioni ti provoca? Noi abbiamo detto che alla vigilia poteva andare bene un pareggio ma per come si è evoluta la partita lascia molto la mano in bocca al campo basso. Sì, abbiamo avuto un atteggiamento giusto secondo me, questo è l'importante. Poi abbiamo avuto tantissime occasioni, non l'abbiamo buttata dentro, quindi se non si fa gollo non dobbiamo prenderlo. Questo è l'importante, ci portiamo a casa un punto e pensiamo alla prossima. Il bramarico può essere legato alla fase iniziale del secondo tempo quando obiettivamente c'era una squadra in grande difficoltà come il Gubbio che faceva fatica ad uscire dalla sua metà campo, lì è mancata la prestazione è stata ottima, il pareggio è un buon risultato, è mancata la lucidità per fare 1-0, il gol? Diciamoli sì, però noi lavoriamo ogni giorno per questo e niente, proveremo a vincere la prossima. L'atteggiamento giusto e anche crescita fisica registriamo? Sì, secondo me sì, stiamo trovando i meccanismi giusti e stiamo andando bene. Partito dopo è partita, quella con la Torres è stata dettata dall'espulsione, quindi sono contento della prestazione della squadra. Si è ritagliato uno spazio importante, sei titolare fisso da due giornate, anche una discreta personalità sul terreno di gioco. Ti ringrazio, no sì sì, io ringrazio il mister per farmi giocare e basta. Calcio a 5 di Serie A2 Elite, domani sera con inizio alle 19, il Cusso Molise sarà impegnato sul campo del Manfredonia per la terza amichevole precampionato. Dopo la vittoria contro la Sandro Abbate, per i ragazzi di San Gennario, altra sfida con una squadra di categoria superiore. L'obiettivo è quello di continuare nella crescita tecnica e di condizione. Automobilismo, successo organizzativo e di partecipanti per la 31esima edizione dello Slalom, città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini, valida come decima prova del campionato italiano di specialità. Presidente Riccardo Tesone per Laci Molise, tornato l'appuntamento con lo Slalom città di Campobasso, 31esima edizione, validità di campionato italiano, avete organizzato tutto al meglio. Sì, abbiamo riproposto questa gara qui a Campobasso, che è la gara della regione Molise, un successo enorme, tra l'altro che viene dopo enormi sacrifici, è stato un miracolo riuscire a incastrare questa gara qui a settembre, dopo che era pianificata per metà luglio, c'erano problemi di sicurezza sul circuito, devo ringraziare la provincia, le istituzioni che ci hanno permesso in tempi brevissimi di ripristinare pezzi di asfalto che erano danneggiati dalle piogge. Quest'inverno si è riuscito veramente a fare un miracolo, l'organizzazione ha fatto altrettanto, noi dell'Aci siamo sempre più convinti che questa è una gara che deve essere mantenuta e ogni anno dobbiamo innalzare l'asticella della qualità e della sicurezza. Un lavoro in sinergia con tutte le istituzioni e anche questo è il segreto del successo? La sinergia con l'istituzione è necessaria perché noi dal primo giorno, almeno io dal primo giorno, ho detto a tutti, sport e turismo qui devono viaggiare in parallelo. Siamo qui a Campobasso con 70 equipaggi, una cosa incredibile mai vista nonostante le difficoltà perché la gara è stata ricollocata all'interno di un calendario molto serrato, tra l'altro alla fine del campionato, quindi un successo. Io ho visto che insomma 70 equipaggi che vengono con meccanici, famiglie, collaboratori, sponsor, quindi è un motivo d'orgoglio anche per la città di Campobasso, per tutta la regione e soprattutto è un aiuto anche alle economie perché il turismo qui nel Molise è la cosa più importante che c'è. Allora in archivio la 31esima edizione dello slalom città di Campobasso, memoria al Gianluca Battissini, sempre una grande emozione. Sì sicuramente è una grande emozione, c'è da dire pure un'altra cosa, che questa 31esima edizione è andata oltre le più grosse aspettative perché di questi periodi avere 70 e più iscritti e partecipare a questa gara per noi è stata veramente una grossa soddisfazione. Una validità di campionato italiano che dura ormai da tantissimi anni, testimonia il grande lavoro svolto da un'equipe che lavora mesi prima per mettere su un grande evento. Sì indubbiamente avere il titolo di campione di campionato italiano, valevole per il campionato italiano, per noi è una grossa soddisfazione. Di questo dobbiamo ringraziare l'ACI e tutti i collaboratori dell'ACI che fanno in modo che questo titolo rimanga perché come tu saprai se le cose non vanno come dobbiamo andare, la prima cosa che fanno ti tolgono la validità del titolo. Un lavoro in sinergia anche con l'ACI, istituzioni, insomma piloti, anche con il nostro Fabio Emanuele in prima linea? Sicuramente, quest'anno Fabio Emanuele è stato un po' l'anima di tutta la manifestazione perché ha fatto di tutto, segnare i birilli, fare casino con la provincia per far mettere le toppe di asfalto che non le volevano mettere, ma alla fine siamo riusciti a fare questa bella bella gara. Ecco l'ACI è sempre vicina, sempre pronta a promuovere lo sport nella nostra regione e in particolare lo slalom la città di Campobasso Memorial Gialluca Battistini, tutti insieme dove si potrà arrivare? Ma si potrà arrivare, che devo dire? Noi abbiamo raggiunto già il tetto massimo perché il campionato mondiale in questa specialità non c'è. Abbiamo fatto pure l'europeo qualche anno fa perché valeva pure per la Coppa Europea. Per noi mantenere il titolo di campionato italiano è il massimo, almeno per il momento. Calcio di Serie D, l'Isernia ha centrato il secondo risultato utile consecutivo rallentando la corsa del Senigallia. Al termine del match l'analisi del tecnico. Mister Farrocco per il città di Serna, seconda gara interna in campionato, primo pareggio stagionale, il primo nel torneo contro una squadra imbattuta come la Vigor Senigallia. Credo è mancato soltanto il gol, una partita dove entrambe le squadre sono state tutt'altro che rinunciatari e ognuno ha provato a vincerla. Sì, sì, sapevamo di incontrare una squadra forte che ormai è nella categoria bene da due anni. Poi voglio dire, dai contenuti tecnici elevati perché hanno gente che palleggia bene e poi ti colpiscono ogni minimo errore. Noi però abbiamo fatto una partita di grande energia, grande agonismo, grande entusiasmo e alla fine penso che il pari sia meritato. Sì, squadra che è rimasta equilibrata, due cambi rispetto al Castelfidardo, Ercolano e Antenucci dal primo minuto, poi soltanto due sostituzioni nella ripresa. Sì, perché la squadra stava funzionando bene, quindi toccare qualcosa risultava difficile. Abbiamo preso le misure, quindi avevo l'impressione che nell'ultima mezz'ora se c'era una squadra che potesse vincere, quella eravamo noi. Abbiamo provato in tutte le maniere, poi è chiaro che la puoi vincere e la puoi perdere, però ripeto, la mia squadra ha fatto una partita incomiabile di grande energia, di grande entusiasmo. Sarà anche banale dirlo, però per rimanere in questa categoria sono queste poi le caratteristiche che ci vogliono. Sì, prosegue il vostro percorso di crescita, la prossima trasferta tra l'altro con un avversario che ha totalizzato i vostri stessi punti, ma ovviamente non bisogna guardare mai a questo. No, noi affrontiamo tutte le partite come se fosse l'ultima e decisiva, quindi l'affronteremo al massimo. Adesso ci riposiamo domani, poi ricarichiamo le batterie e sicuramente entremo lì a fare la partita che dobbiamo fare, nel senso che siamo una squadra che prova sempre a giocare, che cerca di non speculare e di creare problemi all'avversario, come oggi del resto. Poi è chiaro che, come diceva anche il mister Clementi, sono partite molto equilibrate, che si giocano sul filo dei rasoi e quindi poi gli episodi possono determinare il risultato finale. Il Termoli ha mantenuto l'imbattibilità, centrando un punto sul campo del Fossombroni. In questo avvio di campionato, la squadra di Carnevale ha dimostrato di essere solida e compatta. Gli Adriatici sono ora concentrati sull'impegno interno di domenica prossima contro il Roma City. La Pezzano, dopo la sconfitta interna contro il Sora, che ha visto i lasiali vincere 2-1, ha deciso di esonerare il tecnico Mirko Pagliarini, affidando temporaneamente la panchina all'allenatore in seconda Emilio Coraggio. Cambio di guida tecnica anche a Fano. La società di comune accordo con l'allenatore Antonio Aiello ha deciso di interrompere la collaborazione. A guidare i Granata è stato chiamato Claudio Tridici, che sarà affiancato da Gianfranco Parlato. Calcio regionale in eccellenza, primo brindisi per il Boiano, che si è imposto nettamente sull'Olimpia agnonese. Carmelo Gioffri, allenatore del Boiano, arriva a questo primo successo in camionato casalingo, 3-0 netto. Squadra ordinata che ha trovato spesso e volentieri la profondità ed è stata letale negli ultimi 20 metri. Era fondamentale e importante il risultato, perché giocavamo con una squadra buona, che secondo me in questo campionato può dire tranquillamente la sua. Per noi era importante il risultato, raggiungere l'obiettivo del risultato. Diciamo che dopo il 2-0 ci siamo sciolti un pochettino, nel senso che eravamo più sicuri, più tranquilli. Abbiamo cercato di più le nostre trame di gioco. Quando sei una squadra giovane, nelle prime due partite tu meriti e non raccogli niente, allora può entrare quel timore, quella paura di giocare la palla. Come abbiamo trovato il secondo gol abbiamo iniziato a giocare quello che può essere il nostro calcio. C'è molto ancora da lavorare, c'è molto ancora da migliorare, però il tempo questo ancora ce lo permette. Siamo all'inizio, quindi dobbiamo stare sereni e pensare che non abbiamo fatto niente. Un campionato che ha vissuto soltanto le prime tre giornate. Che idea si è fatto un po' di questo torneo, considerando che il Boiano è una squadra con ampi margini di miglioramento e che ha tutte le carte in regola per mantenere la categoria naturalmente? Il nostro obiettivo è quello, di mantenere la categoria. Io credo che quest'anno è un campionato combattuto, che si può perdere contro l'ultima in classifica e si può vincere anche facile. Diventa molto dall'approccio che si ha alla partita. Io penso che quest'anno, come non mai, il campionato sarà difficile. fino all'ultima giornata sarà da battagliare sia in testa che in fondo alla classifica perché gli equilibri delle rose e delle squadre sono più o meno allo stesso livello. Quindi c'è da battagliare, da combattere per tutto l'arco del campionato. Calcio a 5 regionale. È partita nel migliore dei modi la stagione del Ripa Futsal che in Coppa Italia ha espugnato la palestra a Sturzo battendo la Chaminade. Ne abbiamo parlato con il tecnico. Mister Andiapretut, per te e per la tua società, questa stagione è partita alla grande. Hai sposato questo nuovo progetto del Ripa Futsal. Come ti stai trovando? No, hai detto tu. Iniziare questa avventura, questo progetto con il Ripa Limosani che non aveva mai fatto Futsal con una vittoria, penso che già siamo nella storia del loro club. Infatti sono contentissimo e ringrazio pubblicamente anche il presidente che è venuto a vederci, è venuto nello spogliatoio e questo ci ha dato anche una motivazione in più per dare di più perché abbiamo visto una società presente, una società che crede nel progetto. Ma ovviamente mi tocca ringraziare tutti i ragazzi che hanno fatto parte fino ad oggi di La Rosa perché senza di loro questo progetto non sarebbe mai partito e soprattutto questa vittoria non sarebbe mai accaduta se non avessi avuto ognuno di loro dalla mia parte. Ci sono tanti ragazzi che hanno già giocato insieme però insomma si è creata da subito la giusta intesa, una bella intesa. Sì, c'è tanto da lavorare, sicuramente rispetto anche magari all'altra squadra avevamo molti meno effettivi che avevano già insieme perché tolto alcuni due o tre elementi che lo scorso anno erano stati con me gli altri sono tutti ragazzi nuovi che si approcciano anche come primo anno al Futsal alcuni ragazzi che stavano fermi da un paio di anni chi per infortunio, chi per scelta quindi chi veniva da altri ragazzi ma è stata una squadra che fino ad oggi ha dimostrato veramente di voler lavorare e di voler migliorare una squadra molto molto giovane che abbiamo un'età media di 25 anni quindi questo ha fatto sì che a me ha fatto venire ancora di più motivazioni per fare meglio per lavorare e cercherò fino alla fine di poter dare il mio contributo ai ragazzi per ringraziarli di aver sposato con me questo bellissimo progetto. Qual è il suo intento e qual è il lavoro che intende svolgere fino a fine anno a Ripalimosani? L'obiettivo che ci siamo dati è quello di lavorare, migliorarci, confrontarci, litigare su vedute diverse perché sono da quelli che nascono e partoriscono idee che poi fanno bene al gruppo quindi credo di essermi accerchiato da ragazzi che tutto questo hanno le caratteristiche per poterlo fare hanno le caratteristiche senior per poter far migliorare i giovani e per darmi una grande mano poi a raggiungere l'obiettivo che è quello di migliorarci e provare a fare il meglio in tutte le partite. Per quanto riguarda la partita le chiedono ad Isamina? Beh, credo che la partita è molto combattuta una partita secondo me non da Serie C sicuramente da altra categoria partita molto bella secondo me anche da vedere e da rianializzare per me nei giorni successivi credo onestamente con un, non so se presunzione o altro ma credo che il risultato sia stato anche secondo me più giusto tolti i minuti finali dove ovviamente ci siamo abbassati troppi abbiamo sofferto in alcune situazioni potevamo fare ancora meglio però le occasioni create sono state tante e potevamo addirittura finalizzare qualcosa in più ma il portiere e avversario i portieri, visto che si sono alternati anche i loro portieri credo che abbiano fatto anche la differenza nella squadra avversaria Intanto il Penafro ha messo a segno un colpo di mercato importante portando alla corte di Adriano Cuzzi l'ex nazionale sloveno Dejan Biziak per lui una carriera brillante con trascorsi anche nel Molise con la maglia dell'Isernia calcio a 5 nell'ultima stagione ha indossato i colori dell'Eur calcio a 5 disputando la finale playoff in Serie A2 per il calcio di promozione altalena di emozioni a Spinete dove i perroni di cassa sono stati costretti ad incassare il secondo dispiacere stagionale Michele Diamante è allenatore dello Spinete uno Spinete che esce sconfitto dal match contro il fortore ma che ha combattuto con i denti e con le unghie fino alla fine Sì, abbiamo combattuto ma purtroppo non raccogliamo neanche un punto la partita l'abbiamo vista secondo me abbiamo fatto anche una buona partita però se giochi in casa e fai tre gol non puoi permetterti di non portare a meno un punto a casa abbiamo fatto troppi errori individuali specialmente in fase difensiva e poi alla fine questi li paghi Mister, infatti perdere tre punti in casa è un qualcosa che non si dovrebbe Abbiamo perso la partita non prendendo di rimbordo perché se tu vai a vedere il nostro portiere non ha fatto una pagata eppure abbiamo preso quattro gol e questa è la cosa grave su cui dobbiamo lavorare abbiamo preso due gol su due rigori a mio avviso netti quindi c'è poco da recriminare il primo gol è stato anche un errore nostro individuale e quindi poi è chiaro quando giochi a certi livelli con squadre organizzate come la loro è chiaro che poi alla fine i punti non li porti a casa questo è tutto Una squadra che comunque ha una punta un asse davanti di Allô Touré che potrebbe funzionare e fare la differenza Sì, sì, ma noi davanti abbiamo un bel pacchetto è rientrato dopo un periodo di assenza pure Mirko Evangelista ha fatto gol cioè lì davanti noi abbiamo un bel pacchetto offensivo dobbiamo limitare gli errori più che altro in altre zone del campo perché come dico sempre noi prima o poi il gol lo facciamo però dobbiamo essere bravi a non prenderne ogni volta due o tre perché poi alla fine ne puoi fare uno ne puoi fare due però non puoi stare sempre a rincorrere Cosa si sente di dire ai suoi ragazzi? Dobbiamo migliorare dobbiamo migliorare sotto il punto di vista degli errori degli errori perché facciamo troppi errori individuali forse di reparto ecco però i errori sono proprio individuali grossolani quindi tu giustamente ci si può lavorare sopra ci si deve lavorare sopra però tante cose partono proprio dal giocatore l'attenzione, temporeggiare quando si deve temporeggiare cioè sono cose che dobbiamo migliorare dobbiamo allenarci dobbiamo cercare ecco di svoltare subito Sabato prossimo presso l'archivio di Stato di Isernia la NAI ha organizzato una mostra per celebrare il ventesimo anniversario della Corrisernia saranno esposti articoli di giornale, fotografie, maglietti, volantini della Corrisernia ma anche della Matesina e della Sue Giù nella circostanza dopo i saluti istituzionali del sindaco Castrataro interverranno Luciano Di Pardo, Stefano Cialella e Andrea Lalli che parleranno delle loro esperienze sportive il Riccia ha cancellato lo zero nella casella delle Vittoni imponendosi di misura sul Trivento Marco Moccia, terzino del Riccia come giudichi la tua prestazione e quella dei tuoi compagni? dal punto di vista personale sono contento della prima frazione poi ho avuto un infortunio a un minuto dalla fine del primo tempo e purtroppo sono dovuto uscire e ho dovuto lasciare i compagni ma mi hanno rimpiazzato molto bene chi è entrato anche il secondo tempo non al posto mio è entrato benissimo e dobbiamo continuare così forse abbiamo sbagliato un po' a non chiuderla ma a non sbloccarla il primo tempo però il secondo tempo ci siamo messi lì abbiamo attaccato tutto il tempo e alla fine siamo stati premiati un ottimo modo anche per smaltire quella che è stata la delusione della Coppa Italia giunta in settimana a livello di squadra e anche a livello personale quali sono gli obiettivi per questa stagione? ma noi il nostro obiettivo è sempre quello di crescere partita dopo partita di giocare sempre meglio poi io credo che questa squadra ha delle potenzialità altissime però è sempre il campo a decidere e vedremo invece prossimo impegno contro il Guardia Alfiera approcciate in maniera diversa da quello che è stato la scorso incontro con il Guardia Alfiera sicuramente quali sono gli obiettivi per questo match specifico? ma sicuramente l'obiettivo è quello di tornare qui con i tre punti poi la partita di Coppa ci ha anche aiutati abbastanza a capire i loro punti di forza e i loro punti deboli e cercheremo di sfruttare al meglio il centro provinciale Manzi è alla ricerca di una figura di mediatore con specializzazione nella lingua dei segni per consentire un'assistenza adeguata ad un alunno con particolari disagi per informazioni contattare direttamente la struttura dell'istituto Manzi bene è tutto buon pomeriggio buon pomeriggio